I poliziotti lo hanno colto nella flagranza di reato mentre compiva il furto di un'auto al quartiere Picone di Bari e l'hanno arrestato. E la sorte è toccata ad un 49enne bituntino che era stato monitorato dagli agenti della polizia giudiziaria del locale commisariato perché dedito a questo tipo di attività. Così, nell'ambito dei controlli e del monitoraggio della città, le forze dell'ordine lo hanno pedinato. Al mattino, nonostante l'uomo fosse ristretto alla sorveglianza speciale, è salito a bordo di una vettura. Da qui si è diretto nella vicina Bari, nel quartiere Picone, e ha cominciato ad armeggiare contro una Hyundai Tucson. Ma appena ha scorto i poliziotti ha provato a fuggire. Ne è nato un lungo inseguimento, ma è stato bloccato e ammanettato. Durante la perquisizione sono stati ritrovati anche diversi arnesi da scasso sottoposti al sequestro, tra questi un particolare dispositivo, un cavo OBS, che inserito nella fessura di diagnostica a bordo consente di bypassare la centralina dell'auto mettendola subito in moto. L'uomo a disposizione dell'autorità giudiziaria è stato collocato ai domiciliari.